È stata intanto una bella gara, mister. Il risultato giusto? Sono d'accordo sul fatto che è stata una bella gara, nonostante la pioggia incessante di inizio partita, però devo dire che si sono secondo me affrontate due squadre che volevano provare a vincere, ci hanno provato, ci sono state delle occasioni da entrambe le parti, alla fine siamo stati forse anche un po' graziati su quella situazione in area di rigore, nata da una pallina attiva, però devo dire che alla fine è un pareggio importante per noi e credo che si sia vista anche una bella partita, quindi prendo questo pareggio come un punto buono perché ci tengo a sottolineare di aver visto un brindisi comunque in salute, nonostante quanto se ne dica, nonostante le sconfitte da cui stava arrivando, oggi ho visto una squadra in salute, quindi credo che contro una squadra come questa avremmo voluto vincere ovvio come avrebbero voluto vincere loro, però ci teniamo a questo punto e la prestazione. Abbiamo approcciato non benissimo la partita, infatti siamo passati svantaggio, ma dopo c'è stata una grande reazione da parte dei ragazzi, siamo rammaricati per il risultato sicuramente perché per la prestazione vista in campo sicuramente avremmo meritato di più di quello che abbiamo ottenuto, però ci teniamo stretti la prestazione su un campo difficile come quello di Fasano, dobbiamo ripartire da qui sapendo di essere una buona squadra e soprattutto cercando sempre di fare il massimo, perché quando siamo in partita, quando siamo in palla, questi ragazzi siamo un'ottima squadra.